ciao in questo video analizzeremo il modificatore color balance vediamo la definizione di color grading da wikipedia l'enciclopedia libera la gradazione del colore è il processo di miglioramento dell'aspetto di un'immagine per la presentazione in ambienti diversi su dispositivi diversi vari attributi di un'immagine come contrasto colore saturazione dettaglio livello del nero e bilanciamento del bianco possono essere migliorati sia per i filmati o per le immagini fisse color grading e color correction sono spesso usati come sinonimi per questo processo e possono includere la generazione di effetti di colore artistici attraverso la fusione creativa e la composizione di immagini diverse uno dei principali motivi d'uso del color grading è la necessità di riequilibrare i colori del girato delle fotocamere e videocamere impostate con il profilo scene style o scene all free questi particolari profili consentono di sfruttare una gamma dinamica di colore molto più ampia e vanno corretti in post produzione con una lat look up table anche una errata impostazione di ripresa potrebbe richiedere una correzione del colore o per l'editing artistico in tal caso l'unico limite è la creatività vediamo insieme le basi per utilizzare il modificatore color balance innanzitutto controllare le impostazioni della scheda render properties color management il profilo colore impostato su filmic e look su none i valori di exposure e gamma siano rispettivamente a 0 e 1 use cards non selezionato questo ci assicura di non avere un profilo colore attivo lo possiamo abilitare in un secondo momento selezioniamo la strip alla quale vogliamo applicare l'effetto e premiamo n per attivare la sidebar del sequencer e nella scheda modifiers add strip modifier scegliamo color balance abbiamo tre ruote di controllo colore lift per le ombre o shadow gamma per il merzi toni o mid tones gain per le alte luci o high lights in questa immagine possiamo capire le zone che verranno maggiormente coinvolte da ogni strumento shadow per le zone più scure high lights per quelle più luminose e mid tones per quelle intermedie facciamo ad esempio clic nel campo lift verrà aperta la palette con tre campi h u o tonalità s saturation o saturazione v value o luminosità prima di iniziare la color correction sostituiamo il file browser con video sequencer dal tab type scegliamo sequencer e dal menu display mode luma waveform la scorciatoia da tastiera per passare da una visualizzazione all'altra è shift più f1 e shift più f8 proviamo a modificare lo slider s così facendo stiamo aumentando la saturazione verso il colore rosso delle zone più scure il segno di riferimento si sposterà dal centro valore 0 verso l'esterno valore 1 ora agendo sullo slider h andremo a variare la tonalità portandolo da sinistra a destra gli faremo fare un giro completo della palette lo slider v consente di aumentare o diminuire la luminosità delle ombre sulla tonalità selezionata in h la stessa operazione la possiamo fare nello slider posta fianco della palette colore la modifica di gamma e gain funziona allo stesso modo ma rispettivamente sui mezzi toni e sulle alte luci le variazioni alla ruota colore le possiamo fare sia in rgb variando quindi i valori dal rosso verde e blu che con un codice esadecimale evitiamo di portare i valori sopra la metà tra le due linee rosse superiori del waveform per evitare di bruciare i bianchi e oltre la linea verde inferiore per bruciare i neri potremmo optare per una color creativa e decidere di bruciare i neri in gran parte dell'area inferiore perdendo così molte informazioni ma ottenendo un effetto artistico l'icona a forma di occhio consente di abilitare disabilitare il modificatore con la possibilità di animare nel tempo tale azione agendo sul pulsante animate property nel caso di più modificatori applicati le frecce consentono di spostarli nella pila a volte cambiando nel comportamento per capire il funzionamento di mask input type strip aggiungiamo una strip text che ci servirà da maschera le modifichiamo le proprietà come testo font dimensione posizione la nascondiamo premendo il tasto h ora dalla scheda modifiers nel campo mask scegliamo il testo appena creato modifichiamo a piacere il valore dei multiply colors il modificatore color balance avrà quindi effetto solamente nella maschera scelta il tasto mask visualizza l'omonimo campo dal quale possiamo scegliere una maschera precedentemente creata per una guida dettagliata sull'uso delle maschere fare riferimento a relativo video dedicato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti